Cari ragazzi, mi ci sono rimesso sotto Prima di andare al lavoro Perché ho un lavoro E che bella, bella formazione Adesso ce l'ho tutta bella Ligia al dovere Allora, dove erano rimasti Io come al solito vi ricordo e c'è pure Una strada per non andare da sta parte Ok, di qua Cosa si apre? Ah, invece Abbiamo andato da quella bussola di Unslog Allora, il problema Principale qual è? E' che Purtroppo non abbiamo Trovato Flock Non so dove cazzo sia Flock E chi è questo? La, prendete quello Vediamo Ma mansecati il mago? We Laudra Laudra L'elmo Raccogli tutto Allora Si è ripreso Vediamo un attimino che cazzo è Questa roba che abbiamo preso C'è un grimorio da qualche parte Dove cazzo abbiamo messo? Ecco qua Vabbè, niente di particolare Eh, dai Magiette tranquille Abbiamo detto che alla Nana Gli mettiamo Oh No È brutta Non gli possiamo mettere niente alla Nana Eh, aspetta Questo che era brutto Gli mettiamo Così è ancora più brutto Perfetto Non so come 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 mai ci sia stato Questo assalto E come mai mi abbiano Praticamente Instanchillato il mago Allora Siamo a vivo Possiamo andare a Prato Nero In 4 ore E si fa Anche giorno Con azione Nel retto rossa Il ritratto del personaggio Rappresenta la resistenza perduta Tra la barra La sua sinistra Rappresenta la salute perduta La barra salute Cambia colore Man mano si avvicina Allo zero Eh, adesso Abbiamo capito Aumentiamo la velocità No Questo Dama bruciata C'è qualcosa qui Che possiamo raccogliere Non c'è niente Uoi uoi Niente male il bottino No Vabbè C'è un predone qui Non è che questo L'abbiamo spezzettato Guarda quanta roba Vai Cassa da spedizione La stessa pesante è rovinata È stata forzata In un angolo Ma il contenuto Si trova ancora all'interno Sul lato Dipendo Un simbolo Ah, il carico del fabbro Passa di pollo E via Perfetto Abbiamo Abbiamo rubato Tutte le cose del fabbro Dobbiamo riportargliele Di qua dove si va Non si va Ah, potrei andare Tutte le altre parti Ma no Un attimino Grazie 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 Mi sento Mi sento Cherendersi Sono questo Oh 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 Mi è giocato questo Dai di a terra Ma questo perché non Non è Evoca Di buono aspetto e invece legno del risveglio guarda che bello alberi aboli si sono cresciuti intorno a queste antiche rovine secondo me qui c'è qualcosa e infatti bacchetta di qualità 1320 questo potremmo metterli erotipo al mago ma gliela mettiamo fisito 4 perfetto allora proviamo a vedere al mago se ha bisogno della bacchetta precisione perforzioni, impatto dovrei cominciare a incantarli questi bacchetta di qualità riguardanti di qualità giustamente tipo questo precisione 15 per cento di qualità quindi la qualità di più 4 più ok questo è 11 17 direi che possiamo mettere a posto di questo perfetto perfetto qui dove si va qui dove si va questo si risale che vedo a questo punto andiamo 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 diciamo diciamo che ci hanno messo un po' per capire dovevano combattere il gatto ehm questi li prende giustamente si fa i cazzi suoi il gatto ma va bene così sangue muscuso no dicevo voglio tornare qui non per altro ma per vedere se c'è qualcosa di strano non l'abbiamo notato ma non credo e infatti non c'è allora andiamo a vedere la mappa allora io ripunto qui dovrebbero camminare fino a qui e poi c'è una bella oh che cazzo è sto che cacchio è wow bello fotti tutto vedi bisogna stare sempre attenti sempre con un occhio vigile vediamo se questo pure ha c'è una sega questo vedi che cazzo erano questi niente solo quel drago è completamente a cazzo però che figo che ci siano dei draghi oh caed andiamo a caed e poi ce la rivediamo a caed abbiamo una cosa da fare molto importante però io direi che poi siamo in tanti quindi volendo possiamo andare a ad ammazzare redrick anche se mi sarebbe piaciuto parlare con flock parlando con flick e flock magari se ne avremo ottenuto o qualcosa in più ai bordi del segnale che ha portato a caed si chiama una figura imponente cosa fai laggiù l'uomo ti guarda sorpreso poi fa un solese a 32 anni ti saluta agitando la pergamina cerco di passare il tempo dico davvero ho già fatto due volte il perimetro ci sono dei nomi incisi alcuni mattoni quello lì penso che siano i nomi di operai scarpellini in cerca di immortalità tanti secoli di storia ma la parte più interessante è lì dentro non ho avuto molta sfortuna nel penetrare la fortezza spero di trovare il padrone nelle edifiche un uomo di nome Merward Merward ad essere un tipo molto riservato oppure è stato liberato dai suoi ospiti sul serio? allora forse potremmo aiutarsi a vicenda il parco è infestato da bestie di tutti i tipi ho mai visto di così quindi non volevo rischiare di entrare da solo ma due figli di Rutwai insieme ce la faranno di certo e poi potremmo porre potremmo porre entrambi le nostre domande a Merward allora andiamo a cercare benissimo allora fammi stare io ti seguirò un attimo devo prima avvertire una cosa per i dendi di Ondra quasi me ne dimenticavo di tanto in tanto vengo seguito la cosa è iniziata egli rex ixamit sono stato addirittura attaccato credo non vogliono farmi trovare ciò che c'è dico credo ma in realtà è uno dei miei aspiranti uno dei miei aspiranti assassini me l'ha detto chiaro e tutto non gli da molto importanza sono sono solo dei musoni tutti intambarrati è per questo che ho comprato la spada vedi? ed è giusto che tu lo sappia terrò gli occhi aperti eh eh sono piaciuto che non ti... questo è un livello 4 però questa è la cantrice sicuramente quella answer è il bancazzo per adesso che è la seconda versione del personaggio dal gruppo che si tornerà alla locanda nel mastino nero al prenatore roccoforte se ne hai una ma vediamo il tipo che cosa ha ottano c'è un cazzo no saluti 300 un culo allora questo qui lo mettiamo che cazzo puoi usare? l'archibugio ha due mani ma se hai 300 usa l'archibugio 28-42 la madonna 35 ma è tantissimo ma è tantissimo questo è chiaro 10 ma è tosto questo è tosto tosto ma se togliamo il cappello oh madonna no le metti sul cappello beh è bello tosto il tipo tiè mi dà pure questo allora io questo qui a questo punto lo metterei ah ma no non c'è vabbè ma c'è 80% 317 risalute rispetto a quegli altri che comunque sono più altri 600 tipo qua non ha non ha diritto ricchiude gli altri ok siamo dentro oh vabbè questi sono abbastanza easy su un lato di questo pilastro sono incise centinaia di volute e coste l'altra risprende anche sotto lo strato di sporcizia e muschio qui non si può entrare vediamo qui ma secondo me c'è una sega si unirà cosa ce l'hanno lì vabbè fatto già fiamma primordiale che è questo un fumo spettacolo si agia tutti intorno all'inizio non vedi altro che foschia ma poco a poco si distingue la sagoma appassita di un vecchio elfo hai il volto e le braccia scheletriche e sporchi di vernice non puoi fare questo scuole la testa lanciando tutti queste parole fare cosa vedete il nostro messaggio millaggio la nostra casa le 9 grinfie hanno vissuto qui per quasi 50 generazioni eravamo qui molto prima che la tua schiatta portasse la guerra nelle nostre terre non puoi semplicemente bruciare tutto i nostri guerrieri sono tutti morti non puoi bruciare tutti per casa loro non si usce una sega però c'è una porta serena sti cazzi entriamo dentro e vediamo che cosa dovrei salvare in effetti Nicola salva 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 perfetto beh questo è inutile wow spada letale di spirito vediamo un attimino questa spada letale dove la possiamo dare 20 portata di striscio 5 precisioni contro lo spirito più 25 contro lo spirito e allora a sto punto nana no 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 mettiamo in me bella la spadona cazzo bella anzi no ma questo è un spettro ormai ci sono delle cose da guardare quando arriva all'estremità del grande salone avverti un tepore invitante emanato da un mestoso trono intagliato nel marmo un'opera di tale bellezza da sembrare fuori luogo tra le asciutte e pratiche mura del castello sullo schienale del trono è scolpito un viso di donna coperto da un velo che osserva la stanza con occhi vuoti la reti avvicina e avverti fluttore il tepore come se si agitasse una voce risuona dalla scultura permeando pietre e aria in ogni angolo della fortezza un altro osservatore di Kaed Nu ha una luce sfolgorante ai miei occhi qual'avete in inusitato un evento inusitato che cazzo significa inusitato? forse inusuale facendo Mero altrettanto vale per me amici, il gruppo a me e te dovessi trovare e sarei felice di avere notizie ogni giorno alla sua estenza senza porta a nuova polpa nei miei saloni non è grepe alle mie dire è semplicemente una vergogna il conte non avrebbe mai dovuto lasciare questo puoi cercarlo qui liberamente ti sgombro il cammino detto che questi sono i tuoi saloni si ma non come una terra appartiene più come un bambino appartiene a sua madre progettare quel castello fu il conto assegnarmi questo incarico ero avanti con gli anni ormai e sapevo che sarebbe stata la mia un'occasione di realizzare qualcosa di magnifico quando era la costruzione non potevo separarmene tornare alla solitudine nella mia casa pregai il conte di lasciarmi stare di prendermene cura non volevo altro ed è che me lo concessi ogni più tardi quando il mutuo il mutuo di un buon bambino di Beratta venne a bussare alla mia porta pregai il conti un modo per farmi restare così fece parlami ancora di Mero era un grande uomo è arrivato qui un giorno giovane con la chiamata lunghella quando era riuscita e ha scattato la presenza scura che si erano inquadrati di questo luogo dopo secondo me sapevo vedere la bellezza di questo luogo ciò che era un tempo lo ha rivendicato per sé quando nessuno lo voleva avevamo lavorato insieme per rimetterlo a nuovo ma qualche tempo dopo ha iniziato a farsi più distante non mi ha mai detto perché si è ritirato sempre più in profondità nella fortezza senza mai uscire mandando servitori a portare il cibo nascondendosi da una vista le riparazioni siano fermate la voce a sospire male in conica a volte come stanno le cose ora non si crederebbe ai progressi che avevamo compiuti per molti versi la situazione va peggio che mai e non posso fare altro che guardare la fortezza a scrittorarsi a tornare bene hai idea di dove si possa trovare per te la sua presenza nel profondità della fortezza ma usa i suoi doni per confondermi per ottenere i miei sensi se solo sapessi quali sono i suoi pensieri sei prigioniere del trono? prigioniere? qualche volta mi sento così ma diciamo piuttosto che risiedo qui il trono è stato uno dei primi oggetti che guarda delle ruine salendo l'ultima richiesta di non morire un uomo in bonda il conte ha fatto in modo che venisse trasferita qui dentro ladra è ottima per contenere le anime c'è questo conte che di cui parli il conte della foresta di Yen il primo del suo nome quando la foresta di Dyr era appena unato era appena una colonia trovò questo luogo l'unica ruina di Eegg Lafath l'unica ruina di Eegg Lafath non difendesse e ritenne che avesse grande valore la fortezza era il suo modo per difendere la terra dalla sua famiglia e questo diventò una sua essessione doveva sapere cosa si nascondeva e cosa si nascondeva di cui la sua vita l'esplorazione e la rovina sotto la fortezza erano state sigilate la terra e la roccia apparentemente di proposito passarono gli anni per il conto giunse alla fine e scavò per tutta la vita e non trovò mai quel che ci arrivava la sua ossessione diventa l'ossessione di suo figlio e suo figlio e suo figlio e fu quel giovane conte un giorno a trovare questo qualcosa e cosa trovò un labirinto senza fine incomprensibile quanto a costruzione ma non ebbe modo di scoprire molto esseri di disgustosi vi abitavano i disgustori e pericolosi si rivestero in tutta la fortezza e si è truccita non mi sono abitando compreso il conto da quel momento in poi la fortezza resta abbandonata indudizzata e spregata quando Merwald l'acquistata ho intravisto il primo barlone di speranza dopo 200 anni volevo tanto vederla tornare agli antichi fasti non posso che fare congetture sul perché sia successo temo di aver fatto torto agli dei dei costruendo qui la fortezza di essere condannata a vederlo spettorassi a essere spettatrice della mia stessa follia addio fai attenzione durante la ricerca ok la catene pelliccia grigia e marrone salvo ma più che altro perché almeno ho fatto praticamente tutto il l'ambaradano quasi scende vediamo un po' se c'è qualcosa su questo piano ma cosa mi avrà sgombrato? no cioè sarà una trappola sicuramente qui dove si va? gli attacchi danno puro ognuno hanno sempre le soglie di danno e il bersaglio è un po' qui che c'è tempo per vedere e non essere guardato ecco 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 un altro evocatore nella sua difesa e? questa mappa mostra i vecchi confini coloniali dai c'è sicuramente qualcosa da ste parti c'è un cazzo e la cosa bella è che devo tornare al lavoro è che sono già passati più di 25 minuti porca merda allora niente vi devo abbandonare qui so che vi incazzerete perché praticamente non ho fatto nulla ma tant'è un abbraccio e un bacio e ci sentiamo dopo